Buongiorno a tutti! Siete approdati sul canale Alessia Adventure e quella lì è proprio lei, Alessia, che dorme beatamente. Oggi vi racconterò la morning routine di questa fanciulla a casa nuova e se state pensando qualcosa come Ehi, ma non è che mi interessa molto questa cosa? Beh, mi dispiace, ma ve la racconterò ugualmente. Iniziamo! Il risveglio è sempre più o meno così. Che bella giornata, non vedo l'ora di alzarmi e mettermi a lavorare. Sì? Non sei dentro un film, stiamo raccontando la tua vita vera. Lo so, quindi devi essere sincera. Quanto vorrei rimanere a letto a dormire ancora un po'? Ma purtroppo... Devo alzarmi perché ho un sacco di cose da fare. Ho detto sincera. Ok! Ma cos'è questo rumore? Ancora! Stati zitta, non mi voglio alzare, ok? Devi stare zitta! Ma perché esiste la mattina? Non mi voglio dormire. Ok, ok! Mi alzo! E voi direte, vabbè, è stanca, lasciala dormire per oggi. Per oggi lei è stanca ogni mattina. Ma scusate, ci vogliono le maniere forti. Alessia! Sì, sì, sono pronta. Piaggio, piaggio. Ecco, adesso sì che siamo pronti per iniziare la giornata, giusto? E invece no. Perché lei non ha ancora realizzato che sono le dieci. Le dieci e un quarto. Oh no! Ma perché non riesco mai a svegliarmi presto? Sono sempre la solita. E oggi ho davvero un sacco di cose da fare. È giusto. Alessia, dai, se ti alzi, puoi ancora fare un sacco di cose. Se invece continui ad autocommiserarti, invece di aver perso soltanto un paio d'ore, avrei perso tutta la mattina. Giusto? Sì, hai proprio ragione. Forza coraggio. Brava ragazza. Ecco, adesso siamo davvero pronti. Solitamente si mette la vestaglia e poi piano piano si trascina in bagno per fare una bella pipì. Ehi, mi imbaraccio. Ma che c'è di male? La fanno tutti la pipì al mattino. Ecco, poi da brava si lava le mani e va in cucina per prepararsi una buona colazione. fatta ovviamente di tè caldo e... che altro? Oggi mi va qualche biscotto. E biscotti siano allora. Sì, però sbrigati. Non è che possiamo stare qua a guardare te e mangiare. Su, vatti a vestire. Guto! Scusate, vado subito. Ehi, ehi, non dimentichi qualcosa? Cosa? Ma potevo anche farlo dopo. Meglio ora. Dopo aver lavato la sua tazza corre in bagno per lavarsi e vestirsi. Quello spazzolino elettrico è proprio simpatico. Una bella lavata di faccia e... Ehi, ma sei ancora qua? Ma almeno un po' di privacy si può avere, per favore? Ok, ok. Usciamo. Contenta? Contentissima. Eccomi pronta. Ottimo. Ma che outfit interessante. Bene, Alessia, spiegaci questa scelta così stravagante di vestiti. Allora, ho messo il pantalone della tuta perché devo fare ginnastica. E poi, visto che tu, Alessia Narratrice, hai deciso di riprendermi questa mattina, ho messo qualcosa di colorato più il rossetto. E poi in ogni caso devo stare a casa, quindi mi sono messa comoda, ok? Lei ha detto che deve fare ginnastica. Ed è vero. Dovrebbe farla ogni mattina per il suo problemino alla schiena. Ma in realtà le scoccia sempre e ci mette tre ore a convincersi. Oggi probabilmente si è decisa subito perché vuole fare bella figura con voi. In mia discolpa vi dico che fare questi esercizi è davvero noioso, vi giuro. Però mi toccano. Bene, adesso è il momento di girare un bel video per voi. Il problema è che questa mattina non ha proprio idee. E che fa per farsele venire? Legge un bel libro. Sta un po' al telefono. Osserva la polvere sotto il letto. Dovrei decisamente spostare il letto e passare l'aspirapolvere. Parla con le piante. Ma come stai crescendo bene, super bella e colorata. Guarda quanti violetti. Bella piantina bella, troppo carina. Troppo bella piantina. Gioca con le ante dell'armadio senza motivo. Canta e balla per casa. Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi. Fissa il vuoto. Contempla il frigo. Ecco, finalmente ho trovato l'idea. Posso girare il video della mia morning routine a casa nuova. E allora, contenta di aver finalmente trovato un'idea, corri a prendere la telecamera. Beh, sì, fingete che il telefono sia la telecamera. Perché, insomma, quella vera la sto usando per riprendermi in questo momento. Eeeh, rec! Beh, vi risparmio questa parte. Tanto per capire cosa ne è venuto fuori da quell'idea, vi basterebbe riguardare questo video dall'inizio. Sì, infatti, quella è proprio lei che in questo momento fa a me la voce narratrice fuori campo. Comunque, dopo qualche ora... Ragazzi, ma è luna! È già ora di pranzo! Ok, va bene, morning routine finita. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!